Ben ritrovati con il nostro appuntamento settimanale, parliamo di ciclismo pedalato, siamo in clima di Giro d'Italia, anzi lo siamo stati fino a pochi giorni fa e abbiamo qui con noi, insomma grandissimo il piacere di averlo qui nei nostri studi, Stefano Gandin, ovvero l'uomo delle fughe in questo Giro d'Italia, sei stato fermato però purtroppo dal Covid, raccontaci intanto la tua prima esperienza al Giro d'Italia Stefano. Beh innanzitutto grazie dell'invito, è stata un'esperienza sicuramente emozionante, un po' troppo corta forse perché se durava qualche giorno in più era meglio, purtroppo il Covid si è messo di mezzo però sicuramente qualcosa che tu da bambino vedi i corridori passare davanti casa e ritrovarsi là ti fa sicuramente un certo effetto, all'inizio è emozionante dopo col passare dei giorni tra la fatica, la routine, diventa qualcosa un po' più di automatico però sicuramente il primo impatto è stato bello e molto emozionante. Però andiamo a raccontare chi è Stefano Gandin, tu sei nato e vivi e sei cresciuto dove arriva addirittura una corsa per dilettanti, per cui insomma il ciclismo lo mastichi fin da piccolino, raccontaci un po' la tua storia per chi non ti conosce. Ho iniziato a correre da G3 col pedale marinese, prima facevo pallavolo però non mi piaceva troppo e uscendo dagli allenamenti di sera vedevo i ragazzi che si allenavano attorno al palazzetto, quindi sei un ex pallavolista e niente ho fatto col pedale marinese fino da allievo, poi da Juniors sono passato con lo Spercenigo, ho fatto i primi anni da dilettante alla Marchiol, c'era ancora la Marchiol di Lorenzetto e niente dopo sono andato in work service, un anno in Delio e poi prima della Corte che ho fatto due anni in Zalva. Quindi insomma sei arrivato al professionismo e sei riuscito a coronare il sogno che è il sogno di tanti ragazzi come te, come è stato passare e trovarsi a correre con i grandi? È stato qualcosa di, diciamo che già quest'anno sono passato con la Corte che è diventata professional però già l'anno prima c'erano voci che fosse professional, purtroppo è stato rimandato tutto di un anno. Eravate comunque in una Continental? Sì eravamo in una Continental, abbiamo fatto un bel calendario comunque e poi quest'anno diciamo a ottobre ho firmato, si sapeva che la squadra avrebbe fatto la richiesta per diventare professional però finché l'UCI non decreta, non mette i timbri classici, non sei mai sicuro in questo mondo. Diciamo che all'interno della Corratec c'è sempre un gruppo che ben conosciamo, un gruppo toscano, c'è Serge Parsani, insomma grandissimo direttore sportivo, grande ex corridore e poi c'è Fabiana Luperini, la prima e unica donna direttore sportivo dei professionisti perché ricordiamo che ci sono anche altre donne nel mondo del ciclismo in ammiraglia, Luperini e Fabiana insomma tutti la ricordano come la famosa pantanina, com'è avere un direttore sportivo in corsa che ti dà le indicazioni, ti segue, un direttore sportivo donna? Allora io l'ho avuta soltanto questi dieci giorni al giro perché le corse che avevo fatto prima non avevo mai corso con lei, lei faceva la seconda ammiraglia al giro, ci seguiva nelle fughe e sicuramente secondo me c'è un bel rapporto perché essendo una donna in un mondo così maschile diciamo ha una sensibilità diversa che si sposa bene tra Frassi che organizza un po' il tutto, Parsani che è quello di esperienza e lei che comunque fa un po' la mamma ci dà dei buoni consigli. Ti abbiamo incrociato alla prima tappa d'esordio nella cronometro a Fossa Cesia e da lì poi hanno cominciato i telespettatori a conoscerti perché andavi quasi ogni giorno in fuga, hai fatto fughe lunghissime, volevi vincere questo premio dell'uomo in fuga, delle fughe più lunghe non è andata, ma raccontaci come nasce una fuga, perché un corridore decide di avvantaggiarsi sul gruppo, che cosa lo spinge, sono tattiche di squadra, insomma raccontaci un po' questo aspetto che tanti magari non conoscono. Allora ci sono due tipi di fughe diciamo, quelle magari in tappe in cui è quasi scontato, che dopo vengano riprese, che uno va in fuga magari per ordini di squadra o per gli sponsor o magari per traguardi secondari come possono essere al giro ad esempio per incentivare i corridori magari nelle tappe un po' più noiose diciamo così ad andare in fuga, magari c'è la classifica traguardi volanti chilometri in fuga e queste solitamente le prime tappe dove è scontato che magari arriva la volata e poi ci sono quelle fughe un po' più difficili che ci vuole più gamba da prendere, come l'ultima etapa abbiamo visto al giro, in cui la fuga può arrivare e diciamo che c'è questa differenza. Per quanto mi riguarda io non sono uno scalatore pure, neanche un velocista, cioè sono veloce ma non troppo e l'unico modo che ho per provare a vincere è sicuramente anticipare, perché se aspetto quelli più forti so già che sono battuto. Allora raccontaci proprio i tuoi giorni di fuga, come sono stati, quanti chilometri hai fatto, chi avevi se ti ricordi in gruppo, come vi parlate se vi stimolate, cercate di darvi sostegno per cercare di avere più vantaggio rispetto al gruppo insomma che cosa succede quando si va in fuga? Beh ad esempio il primo giorno che sono andato in fuga diciamo che... Era la tappa? La seconda tappa, quella dopo il cronometro, diciamo che l'obiettivo era quello di provare a prendere la maglia azzurra degli scalatori. Il primo GPM non sono riuscito a vincerlo, mi sembra l'ha vinto uno della GEDESER e automaticamente dopo ce n'era un altro però non riuscivo più a prenderlo e quindi mi sono concentrato un po' più sui traguardi volanti che sono riuscito a vincerli tutti e due. Mi sembra che quel giorno eravamo in fuga in cinque o sei, cinque o sei, c'era Bais, che anche loro sono sempre... I due fratelli Bais, o esce uno in fuga o esce l'altro, Mattia e Davide. C'era Mattia quel giorno e dopo comunque era anche una bella fughetta perché c'era un Cofidis, una GEDESER, mi sembra c'era Verri dell'Archea e anche lui punta al GPM. E che cosa vi raccontate dopo 100 chilometri di fuga? Vi parlate, vi raccontate, vi insultate, che cosa vi dite? Ma alla fine non parli neanche tanto, sai che purtroppo specialmente quella tappa era un po' quella alla fine che dovevamo fare, che il gruppo ci teneva là e dopo ci prendeva. Siete stati ripresi a poco dall'arrivo oppure... No, siamo stati ripresi a una trentina di chilometri dall'arrivo. Sì, e lì scatta la delusione. Sì, la delusione però sai che comunque è una tappa in cui è difficile arrivare, quindi la delusione c'è ma fino a un certo punto è quando magari ti riprendono all'ultimo chilometro i 500 metri, quello un po' più brutto. L'altra fuga quando abbiamo visto in televisione Gandin va in fuga e qualcuno giustamente dallo studio, i commentatori volevano sapere chi era Gandin, dove era nato, dove era cresciuto, la sua attività perché nel frattempo anche i commentatori cercano notizie, magari commentatori che non conoscono le categorie giovanili e quindi si ritrovano ragazzi come te al primo anno tra i professionisti e cercano di scoprire un po' di notizie. Raccontaci appunto le altre fughe perché ormai ti chiamavano l'uomo delle fughe. Ma la seconda fuga pioveva, mi ricordo, ho visto Zoccarato partire e sono andato subito a ruota perché anche lui è uno di quelli da tenere sotto controllo. Diciamo che era dura la partenza con tutti i salitelli e strapettini. Pensavo là che magari potesse uscire una fuga un po' più grossa e che magari potesse arrivare all'arrivo anche perché venivamo da una tappa, quella di Lago Laceno mi sembra, che era stata molto dura, quindi magari poteva nascere. Siamo andati via in quattro, dopo siamo rimasti in tre perché c'era Pino ma ha preso solo i punti del GPM e abbiamo preso abbastanza freddo. Ci hanno preso un po' più verso la fine però in tre è difficile ancora inizio giro pensare di arrivare. Quando c'è freddo come vi difendete? Che cosa fate? Perché la prima parte del Giro d'Italia è stata particolarmente impegnativa, il freddo, la pioggia, le cadute. Diciamo che io sono uno che soffre anche particolarmente il freddo, soprattutto le mani quando comincia a piovere perché un conto è se fa freddo però non piove, allora in qualche modo ti copri. Quando piove è difficile perché ci sono sì materiali più alla malguardia e tutto però quando fa freddo, bisogna tenere duro soprattutto di testa e andare avanti. E poi invece è arrivata la brutta notizia. Hai cominciato a sentirti di non essere in forma, questo giro è stato violentato dal Covid letteralmente perché ha decimato il gruppo, hai cominciato a sentirti male, un po' di affaticamento. Sì, diciamo che già da inizio, dalla seconda alla terza tappa sentivo che c'era qualcosa che non andava, anche se sono andati in fuga però non recuperavo come di solito facevo e anche la gamba non era la stessa. Poi devo essere sincero, gli ultimi giorni prima di risultare positivo al Covid mi stavo anche un po' riprendendo un pochino però dopo la tappa quella che siamo arrivati a Via Reggio, che abbiamo preso tanto tanto freddo, sono arrivato alla sera che ho fatto i massaggi ma ero stanco, avevo quella sensazione un po' di freddo, chiuso. Con il medico abbiamo deciso per sicurezza di fare il tampone per escludere, purtroppo è risultato positivo e niente. Arrivata, hai alzato bandiera bianca, ti è rimasto molto rammarico? Eh sì, sicuramente molta delusione perché ho lavorato tanto, era il mio primo giro e finirlo sarebbe stato diverso però purtroppo è una cosa che non puoi controllare questa e non posso far niente. Così come le cadute? Sì. Ci sono state veramente cadute pesanti in questo giro? Sì, sì, certamente anche io la tappa che era andata in fuga sono caduto... Eh infatti, ma si cade come? Perché si perde l'equilibrio, si perde l'aderenza, la pioggia, la sbalataggine. A volte diciamo che nelle tappe che eravamo al centro-sud Italia c'è anche un asfalto un po' diverso e è più facile cadere perché non drena tanto l'acqua, no? Poi ci sono quelle cadute di disattenzione, le cadute soprattutto alle prime tappe perché c'è tanto stress e quindi tutti vogliono stare davanti e dopo ci sono quelle cadute sfortunate come Geogenhardt ad esempio che si è fratturato, una caduta che sembrava banale non per colpa sua però... È vero che siete tanto fragili? Sì. Perché siete tirati come si suol dire come corde di violino magrissimi quindi dovete stare attenti all'alimentazione col bilancino, controllare tutto e quindi forse le difese immunitarie si abbassano. Sì sì sicuramente si abbassano poi in un giro di tre settimane con questo tempo soprattutto sicuramente il fisico al limite e quindi bisogna stare attenti a tutto e poi ci vuole anche un po' di fortuna di... Perché poi chi pensava che fosse scoppiato il covid con il sole? Esatto. A Frossacesia eravamo lì ed era un caldo incredibile, sembrava che si potesse stare bene invece. Ci sono state tante polemiche ma di questo noi non vogliamo parlarne. Polemiche relative insomma a qualcuno che ha abbandonato il giro per il covid, le cadute, una serie di cose. La tua esperienza finale, poi siamo in chiusura, insomma è stata una bella esperienza. È stata una bella esperienza, sono rimasto un po' con... Con l'amaro in bocca. E quindi l'obiettivo adesso sicuramente è ripartire pian piano, rialzarsi. Mi piacerebbe tornare al prossimo anno per riuscire a puntare a una tappa. Grazie a Stefano, un grandissimo in bocca al lupo. Grazie a voi. A lui, a tutta la squadra e insomma seguite anche Stefano Gandini.